Chris Martin e Dakota Johnson stanno insieme, Chris Martin e Dakota Johnson stanno insieme, da mesi si parla di una probabile storia d'amore tra Dakota Johnson e Chris Martin. A quanto pare tra i due le cose si fanno sempre più serie, a confermare la notizia è stato il sito Usweckly. Una fonte ha rivelato in esclusiva al sito, che l'attrice di 50 sfumature e il cantante dei Coldplay hanno avuto l'opportunità di conoscersi bene continuando ad uscire insieme ed ora sono sempre più uniti. Stando alla fonte Chris manda addirittura le sue canzoni a Dakota per un suo parere. Ciò lascia intendere che la relazione tra i due è molto seria, non si tratta dunque di una semplice avventura. Ad oggi i diretti interessati non hanno confermato la loro relazione, ma il loro atteggiamento non lascia molti dubbi. Trapela l'intesa tra Chris e Dakota Chris Martin e Dakota Johnson a ottobre erano stati visti a cena insieme a Los Angeles. Alcune fonti avevano rivelato che i due erano molto complici ed affettuosi, ma quella non è stata l'unica volta, che sono stati visti insieme. Infatti, lo scorso mese Chris e Dakota hanno partecipato insieme ad un concerto di Nick Grave a Tel Aviv, in Israele. I tre sono stati visti insieme in un ristorante, un testimone aveva fatto sapere che la presunta coppia non aveva assunto atteggiamenti intimi, ma l'intesa era comunque evidente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.